Non penso che la Sicilia sia sotto pericolo perché ritengo che siamo sempre serene, serene nel senso che tutta una comunità vigilante, anche insieme allo Stato, a tutti, siamo vigilanti e non penso che sia stata sempre una terra di pace, di incontro, di convivenza pacifica e di dialogo. Non vi trovate d'accordo con il governo Renzi? Ma certo, certo di questa cosa per me in persona è una scelta sbagliata nel senso che la guerra non risolve i problemi e la violenza genera altre violenze. L'ISIS è un pericolo per l'Italia e per la Sicilia? Sì, è sempre un pericolo perché nel progetto dell'ISIS è quello di terrorizzare tutto il mondo.